E' uscita la skin di Prowler e oggi lo andremo a riscattare con tutte le sue ricompense E uno dei punti migliori per iniziare è andare a Daily Google Perché c'è un sacco di missioni da fare Per esempio, c'è il primo che dovrebbe essere, eccolo qui, dello sprite Io non c'avevo nell'inventario quindi infatti mi compadre la missione E prendiamo quello sprite che abbiamo appena usato adesso Poi, come secondo... Allora, la prossima missione dovrebbe essere aprire 7 chest Eccole qui, 7 chest aperte E vediamo che ricompense che hanno un deltaplano Ok, non è male, non è male Poi un'altra missione è quella di prendere armi viola nella stessa partita Tra armi viola diverse Allora, eccola qui Perfetto, abbiamo trovato le C4 Però il problema è che devono essere le forze armi che causano danno Non tipo impulso, pad, jump, roba del genere No, solo armi Allora, prossima missione Dobbiamo praticamente modificare un veicolo e guidarlo per 500 metri E anche fare un'altra missione in cui dobbiamo prendere 500 lingotti Quindi Altra missione qui c'è un nemico, però vabbè, lasciamolo stare Io ho già la skin di Prowler, vabbè E... Stuggiamo un po' e prendiamo un po' di lingotti Così... Ok, e... Mi ce l'ho completata Vediamo un po' qui cosa ci dà Ok, e ma ci dà... Le moji lì Le moji, sì Le moji del guanto Come mi ce l'ho da completare? Io direi di fare quella del piccone e della copertina Ok Allora, raga Prima partita Adesso dobbiamo completare la missione dei lingotti, se riesco E anche questa partita voglio farla dai danni Da accovacciato e da... Mentre fai la scivolata Ok, già un po' di danni A questo gliel'abbiamo fatti 15 Ne restano tipo 300 danni, non mi ricordo Vabbè Ok, un altro nemico qua Demolito Perfetto Facciamoci il big Beh... Boxiamoci così siamo più sicuri Ok, fatto E... Ecco lì il nemico Cerchiamo da accovacciati Eh, c'è il cactus Mannaggia te Vabbè, dai, raga Eccolo lì Eh, scivolata Ok, va bene Quella Ok, perfetto Morto 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 Ok, quindi anche due nemici Uno morto Così No, io ho stillato Vabbè, tanto ci muore Eccolo E allora Vediamo un secondo se abbiamo completato la missione Eh, 477 danni Ok, sì Comprata Comprata Sono 500 i danni da accovacciato E il piccone Bellissimo Bellissimo il piccone Ok, un cinghiale Che cosa c'è Ah, nemico C'è un nemico C'è un nemico Vabbè, va Zero di vita Sto qua C'è Ok Quattro Nemico qua Guardate, nemici ci sono Tutti allo stesso punto Ok, distrutto Pumpa viola Ok, quello lì Ha una Lambo No, una Lamborghini Quella lì Non so Vabbè Distrutto Bellissimo Ma Quanto vuole Ma si è buggata sta macchina Che vuole così tanto Cioè Non credo sia normale Che vuole così tanto Una macchina Cioè È un po' strano Vai Andiamo A pushare quello Adè che lo killiamo Siamo a 9 kill Ho visto adesso Veramente Buon risultato Cioè Mi raccordi Kill in solo Da mouse testiera È stato 11 Ah, questo qua ci spara 11 Sono da pad Vabbè, lo fate di più Comunque 11 È stato da MK Quindi potrei Magari superarlo In questa partita Con 3 Con Sì, con 2 kill Lo faccio Con Con 3 kill Lo supero In pratica Qui stiamo attenti a con lì Sai che è Mida dorato Un sacco non lo vedo Mida d'oro No, è nitroglicerina Sì, mi sa di sì che è lei Non sono sicuro È la season Di Mida questa È la season 12 O 13 Mida Boh, vabbè Io odio quelli che hanno il jetpack Perché alla fine Cioè, ti distruggono Almeno a me Io col jetpack Sono straforte E mi distruggono sempre Quelli col jetpack Non so perché Il problema è che Ti rubo uno slot Dai, questo è morto Dai, questo è morto Quando c'è il pump Sì, let's go Let's go Con la corona da vittoria Cioè, mi... Dai Ok, allora Ok, ok No 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 Peccato, peccato, peccato Mamma, 10 kill Beh Per niente male Per niente male Questo game Io ho anche preso Uno stand Uno standard Adesso abbiamo completato La missione delle tre armi In una partita Bellissimo Allora, regà Ho appena completato La missione E dei lingotti Vediamo un po' Adesso Cosa troviamo Speriamo di avercelà La skin Perché dovre... Cioè, vabbè Abbiamo completato Le missione Ok Blocca Prowler Che in teoria Abbiamo già sbloccato Noi Ok Eccole qui 10 stelle del pass Attenzione Lo spray Quello che avevamo Sbloccato prima Madonna La skin di Prowler Era bellissima Bellissimo Il deltaplano Vabbè 4 mini chip Piccone Bellissimo Seriamente Praticamente Guardate Di Prowler Allora Le equipaggiamo Tutto il set Di Prowler Vabbè I mini chip Non si possono Eccolo qui Mamma mia Che bello Il set Di Prowler Allora E' un attimo Guarda Cioè E' un attimo Vedere questa skin E' Cioè Ditemi se è brutta Fine Magari Va meno bene Per giocare Questo stile qui Però Ah Si può cambiare stile Ah Questo qui è stile migliore Per giocare Però Veramente Come bellezza Cioè Se dimmi Dite questo qua Il brutto Cioè Non so Comunque come skin È strabella Piace a un sacco Di gente Io mi sono Shoppato il pass Adesso Solo per quello Rendetevi conto Guardate Guardate Cioè Ha fatta benissimo Sto skin Super bene Guardate qua Stra Veramente Complimenti Spero che questo video Spero che questo video Si sia venuto Veramente Bellissima Skin di Prowler Fatemelo sapere Nei commenti Se anche Vi piace Perché E' una bomba Atomica E' bellissima Come skin Comunque Iscrivetevi al canale Per questo super video E se arriviamo E se arriviamo a 5 like Porterò Altri Del genere Fatemelo sapere Se volete Altri video Dove riscatteremo Skin Ricompeze Segrete E tutte Altre Bellissime cose Di Fortnite In più Voi avete anche La possibilità Di avere Un tutorial Perché Mentre vedete A me Lo potrete Fare anche voi Quindi Io vi consiglio Di guardare Seguire Tutti i miei video Delle serie In pratica Dove riscatto Ricompense Sto giocando Anche un po' Meno A Fortnite Perché Mi piace Un po' Meno Sto giocando Un po' Più A Univino Punto Roll Che Vi porterò Un po' Di più Video Poi Sto giocando Anche Un po' Ad Apex Legend Warzone Anche se mi occupa Più di 100 GB Quindi Vabbè Tantissimo Comunque Per sostenere il canale Con una donazione Ovviamente Per avere Un microfono Quindi non c'ho Ne ancora Per avere I miei programmi Di editing E molte altre cose Donate Il primo link In descrizione Questa cifra Che volete Comunque Se volete Il canale Spaccanto Solo Scriviti A te Un bel like Quando vi vedete Questo video Contatti i vostri amici Detto questo Bella Dariga Aaaaaah